Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna ci sono 3 km di coda per un incidente risolto tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci e rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci in Filippili per lavori 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sempre in Filippili rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Livorno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!